salve ragazze eccoci qua benvenute nel micesso e benvenuti nel micesso anche maschietti allora questi occhi tutti lacrimosi però vabbè pazienza faremo uguale allora visto che non tutte hanno capito quello che che dovevate fare vi spiego meglio in questo video c'è la chicchina è venuta ora dal lavoro e la mitofa alla vista con meglio quello che dovete fare in questo video allora apro il concorso perché mi sono arrivati pochi disegnini capito poi grafiche e quindi mi piaceva ecco scusate a pelle alla rocco co qui come li devo lavare mi stanno un po un po male niente ho aperto questo concorso qualche video fa che mi interessava una grafica per il canale nuova io ora ho scritto a un ragazzo che si occupa di grafica che si chiama david 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 olfo non fare del genere che fa appunto la grafica per i canali però mi piaceva fa una rosina proprio cioè coinvolgere anche voi perché siamo quasi 2000 iscritti e quindi mi piaceva ecco coinvolgere anche voi in questo in questa cosa poi vedremo un po ecco se no una cosina vostra che piuttosto una cosa comprata ecco vediamo un po allora ragazze niente la grafica per il canale mi serve quella lì che è in cima e le misure sono 2.560 25 60 sarebbe per 14 40 1440 allora 25 60 14 40 non la fate più piccolina perché se no non mi non mi entra deve essere proprio una striscia allora dunque ragazze io vi spiego e questo giveaway giveaway concorso chiamiamolo come come più vi piace così ho messo in palio delle due costine che ho comprato ora magari ecco non ve l'ho fatto vedere l'altra volta però ecco ve le faccio vedere adesso sono queste due palettine di astra sono tutte impacchettate quindi evito di di aprirle poi vi faccio magari vedere nelle mie allora queste due palettine di astra che è il numero numero uno e numero due sono della nuova collezione che è uscita ragazze eccoli qua allora vi faccio vedere le mie perché queste vi sono le mie eccole qui e queste sono le vostre e le rimetto dentro la dentro la bustina così almeno questi sono per voi chi è che riuscirà a fare la grafica più chiare più carina del mio canale ce l'ha assicurata ecco allora le palettine in questione sono queste qui c'è uno oioide capelli mannaggia pierino c'è uno specchiettino qui e ci sono tre colorini e più c'è questo pennellino che non è proprio sfigatello perché già già delle la spugnetta è buona insomma e poi ecco vi faccio vedere il costo dei colori il verde sono parecchio pigmentati questo è l'ottaneo e questo è il blu notte e sono molto carina vedete è davvero molto carina questi qui sono i colori per quanto riguarda questa qui la numero la numero 2 per quanto riguarda la numero 1 ecco che è questa sul rosa i colori sono questi si passa si parte da un lilla a un fucsia che ha un viola un pochino più scudetto questi qui ecco guardate eccoli qui insomma sono messi all'arrovescio perché l'ho fatta al rovescio io così ecco forse riusciamo ecco a farveli vedere meglio madonna quante peripezie allora me li pulisco nelle mani perché sono parecchio pigmentati vedete con con i fazzolettini come restano quindi immaginatevi voi sugli occhi come vengono come vengono bene ragazze proprio mi piace tanto tanto insomma niente ho fatto ho voluto fare questo concorsino le misure per la grafica sono 25 60 e per mille e 440 14 40 queste qui sono le misure vedete ora l'ho fatta in questo fogliettino ma è un po brutto ma tanto tra di noi c'è confidenza si può si può fa benissimo ecco i ragazzi spero con tutto il cuore che possiate aiutarmi e in modo tale io posso darvi questa queste pallettine altrimenti la lascerò per un giveaway farò non appena raggiungeremo 2000 iscritti ai ragazzi io spero veramente ecco che mi potete aiutare e vediamo un attimino come come sistemare un po il tutto d'accordo topoline io vi lascio spero ecco di ricevere nell'info box trovate tutte le informazioni riguardanti questo questo concorso e spero che davvero che mi possiate aiutare ciao belle